In un sottoscala di via Benedetto Dei a Firenze nella fine del 1973 nacque la vigilanza antincendi non erano auto e mezzi come queste ma era soltanto un 850 il primo mezzo a disposizione da quel inverno del 1973 sono trascorsi più di 50 anni e c'è una festa della VAB che vi racconteremo una festa importante che si è tenuta all'interno di Firenze Fiera nel palazzo del congresso a Firenze nell'auditorium per festeggiare questo grande traguardo per ricordare chi ha fatto nascere la VAB tutti i volontari che sono passati in questi 50 anni e dare un segno tangibile della presenza di questa associazione anche ai giovani che effettuano volontariato. E inizia così il nostro racconto dei 50 anni della VAB con colui che peraltro quest'oggi sarà sul palco a raccontare questi 50 anni. Passato presente, tante emozioni, tanti ricordi, una giornata che sarà sicuramente memorabile. Sì ci saranno tanti ricordi perché appunto 50 anni sono tanti e è bene anche ricordare appunto le origini e bene ricordare anche tante situazioni che abbiamo vissuto direttamente o indirettamente perché comunque anche l'esperienza e le attività che sono state svolte prima che magari molti di noi facessero parte della VAB fanno parte integrante del percorso che l'associazione in 50 anni ha fatto. Molte persone e molti volontari sono venuti qui all'auditorium, sicuramente è sinonimo di una presenza radicata proprio nel territorio e soprattutto un'importanza fondamentale anche per la nostra regione della VAB che appunto è nata anche a Firenze. Sì c'è una buona partecipazione purtroppo un po' anche condizionata in alcuni casi dagli eventi calamitosi che ci sono in corso soprattutto in Emilia Romagna per cui noi abbiamo anche tanti volontari che sono su nelle zone alluvionate. Però una ottima partecipazione, davvero un bel ringraziamento appunto per l'associazione per questo festeggiamento e questi 50 anni. Noi cercheremo di raccontare 50 anni in pochi minuti ma da 50 anni a un giorno dove andrà la VAB da domattina? Questa è una bella domanda, noi speriamo ovviamente di poterne festeggiare altrettanto, ci impegniamo quotidianamente comunque per creare anche questo naturale passaggio di consegne che dobbiamo inevitabilmente fare tutti, partecipare e far partecipare anche tanti ragazzi e dandogli appunto quelle indicazioni che per noi sono state fondamentali e spero che lo siano e lo saranno anche per loro per appunto continuare a crescere in maniera sempre più professionale. E arriva questo cinquantesimo compleanno proprio quando c'è davvero bisogno della VAB? Sì assolutamente, cioè noi non ce la siamo sentita di annullare questi festeggiamenti perché comunque era troppo a ridosso e quindi mettere in piedi anche una macchina organizzativa è molto complesso. E poi comunque non possiamo esimerci da quello che è il nostro compito, quindi di prestare soccorso alle popolazioni e quindi siamo partiti e ci stiamo impegnando in questo. Torniamo indietro nel tempo, a quella primavera del 1974, lei studente universitario, le presentano un abbozzo di VAB. Che cosa è successo in quella primavera? Sì, tutto eravamo a geologia, quindi eravamo studenti di geologia, quindi un'attenzione al territorio c'era per la natura stessa degli studi. C'era molto la VAB, era un'aggregazione per l'antincendio boschivo. A noi ci parlo anche un po' strano perché eravamo abituati alla tradizionale volontaria faccidenti della misericordia del 1244, dell'Ampas, della Croce Rossa, però questi nascono con un'attenzione al territorio. E fu attratto e andai in questa sede che era un minuscolo appartamento, c'era uno di tagliaferri, mi sembra. Era lì, io sono studente di geologia, volevamo, ah dice bene, bene. Allora mi iscrissi e portai un cartello scritto a mano con il pennarello e lo appesi nella bacheca di geologia, perché allora c'erano le bacheche con tutti i nomi delle lezioni, e ci appiccicai VAB, volontaria anincendio boschivo, in modo che parecchi studenti dicevano e cominciò un'aggregazione nuova di attenzione sul territorio, non antagonista alle tradizionali associazioni che c'erano, ma era una nuova... e mi accorsi che molti ragazzi dell'epoca, ragazzi dall'epoca appunto, e i geologi erano attratti da questa associazione che aveva l'attenzione sul territorio dell'incendio e poi si è sviluppata anche nella protezione civile. 50 anni marcano un percorso, no? Un percorso in un campo estremamente delicato, complesso, in un paese dove i rischi non mancano, dove le tragedie, anche in queste ore, abbiamo assistito alle vicende che hanno colpito l'Emilia Romagna e le Marche, quindi un settore di particolare attenzione, però la cosa che mi piace ricordare di questo percorso e di questa storia è come le idee vincenti, le idee che affondano nella passione della gente, nei valori veri che poi connotano una comunità, durano nel tempo, perché poi intraprendere un percorso magari può essere anche qualche cosa di geniale o un'occasione del momento. La differenza la fa continuare, continuare, crescere, diventare oggi un punto di riferimento non soltanto nella nostra regione così straordinaria e così bella, ma in tante altre parti del nostro paese. E poi, lasciatemi ancora dire, questo movimento di popolo, questo esercito di cittadini e cittadini che il padre della moderna protezione civile, Giuseppe Zamberletti, riteneva fondamentale. Una delle cose più straordinarie della legge che ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, quella del 1992, è proprio quello di aver riconosciuto al volontariato organizzato di protezione civile un ruolo fondamentale. Cittadine e cittadini non che impegnano il loro tempo libero in iniziativa di questo genere, ma cittadine e cittadini che liberano il loro tempo per dedicarlo agli altri. Credo che sia una cosa straordinaria e quindi, al di là degli auguri per questi 50 anni che sono passati, anche l'augurio per tutto quello che le volontarie e i volontari di questa straordinaria associazione faranno ancora nell'interesse delle nostre comunità. 50 anni fa il Servizio Nazionale della Protezione Civile, come lo conosciamo oggi, ancora non c'era, ma è proprio su quelle esperienze, le esperienze degli anni 60 e degli anni 70, che si comincia a pensare ad un sistema, una cabina di regia che possa tenere insieme tutto il paese. E di questo sistema, colonna portante, è il volontariato organizzato di protezione civile. La VAB è uno splendido esempio che affonda le radici lontano, sulla memoria, sulla tradizione, su grandi uomini e grandi donne che hanno dato tanto per la protezione civile e che è una tradizione che si ripete, si rigenera in qualche modo con tanti ragazzi, tante ragazze che si avvicinano a questo mondo con la voglia di dare, con la passione del fare, con la vicinanza alle comunità, che è il messaggio più importante. Quindi giorno di festa, giorno di ricordo, ma anche giorno che fissa una tappa di un percorso importante di crescita di cui la VAB è protagonista. Conosco bene questo mondo, un mondo straordinario, senza il quale non potremmo fare protezione civile e io ho potuto toccarlo con mano prima, quando ero responsabile della provincia di Firenze, della protezione civile, durante dieci anni da sindaco e adesso ritornando in città metropolitana. 50 anni della VAB sono importanti non solo come traguardo, ma come momento di riflessione. I volontari della VAB sono sempre presenti ovunque e hanno saputo nel tempo crescere, diventare sempre più competenti, ma è rimasta intatta una cosa, la passione e il cuore. Io ho avuto la strana avventura di essere sindaco alluvionato nel 1996 e di tornare a essere sindaco oggi dopo quasi 30 anni, quindi ho questa esperienza da portare, in effetti ho registrato differenze, ma una cosa la posso sempre testimonare. La VAB è sempre stata un'associazione molto vicina al territorio, molto presente, molto riservata, mai che assosa, sempre rispettosa degli elementi di coordinamento, delle istituzioni e quindi un soggetto preziosissimo con cui camminare fianco a fianco. D'altro canto già nel 1996 aveva già più di 20 anni di vita e di esperienza e si erano già adattati da modello d'antincendio a essere anche un'associazione spendibile anche su altri rischi, su altri eventi. Per cui ricordo ancora con grande distinzione, cioè le sensazioni positive, estremamente positive, che questa associazione mi dava già all'epoca. Quello che ci tengo a dire, e lo sento davvero, è il fatto che nella costruzione del sistema di protezione civile e della difesa delle città come la nostra, che è in continua trasformazione, non soltanto l'ausilio dei volontari, ma anche l'apporto teorico che loro possono dare, che un'associazione come la VAB può dare, è determinante. Non soltanto congratularsi, ma anche ascoltare chi conosce molto bene il territorio. E la VAB conosce molto bene il territorio. Qui si riesce a trasmettere una cura tra generazioni, trasmettendo saperi su come prendersi cura della comunità, cura degli esseri viventi, sia animali che umani, ma soprattutto cura del territorio, sempre più essenziale, come il climate change ci impone di pensare nelle nostre città. Il grande onore di avere in città la sede regionale, in Viale della Repubblica, della VAB. Per noi è un punto di riferimento fondamentale, lo abbiamo sperimentato nel corso degli anni, e lo abbiamo visto nel sistema complessivo nel momento del Covid, ma soprattutto nel grande lavoro che questa associazione, insieme fortunatamente a tante altre, ha svolto il 2 novembre scorso, quando purtroppo la mia città, come altre dei comuni vicini, sono stati colpiti dalla tremenda alluvione che ha sconvolto le nostre vite. VAB è uno delle colonne portanti del sistema di protezione civile. 50 anni sono un bel traguardo, è giusto festeggiarla in questo modo, è giusto ricordare a tutti quanto è fondamentale, quanto è importante all'ampliare il raggio di azione del sistema di protezione civile e come dire, chiedere a tutti di far parte di associazioni come questa, perché fa venire bene al territorio. Tante le emozioni, avete sentito alcune, sono state le dichiarazioni che abbiamo portato ai nostri microfoni, alle nostre telecamere, altre tante le potevamo filmare e portare alla vostra attenzione. Lo faremo sicuramente tra 50 anni, quando festeggeranno i 100 anni della VAB, questa grande associazione che fa tantissimo per i nostri territori.